L'ennesimo tragico caso di mala sanità molisana ha stimolato politici, movimenti e associazioni che hanno rotto il silenzio per denunciare l'inefficienza del sistema. L'ex governatore Michele Iorio ha chiesto al ministro Giulia Grillo di cercare i responsabili all'interno del suo ministero e del tavolo tecnico nazionale perché, ha detto Iorio, sono loro che hanno imposto un piano sanitario avvallato da Paolo Frattura, non idoneo per le patologie tempo dipendenti a causa della chiusura di neurochirurgia all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Di fronte alle tragedie, le responsabilità non possono ricadere sugli operatori che spesso lavorano sotto organico e in condizioni difficili, ha concluso Michele Iorio. Anche il presidente nazionale del Codacons, Carlo Rienzi, ha preso posizione giudicando tardivo e ipocrita l'intervento degli ispettori che non riporterà in vita l'uomo deceduto. Pochi giorni fa, ha concluso Rienzi, ho chiesto al ministro della Salute di prevenire i casi di mala sanità con controlli preventivi nei nosocomi di tutta Italia. Imbarazzante la dichiarazione di Paolo Frattura. Non sono più il commissario ad Accheta del Molise. Il mio incarico è scaduto con la nomina del nuovo governatore della regione, ha detto Frattura. Voglio però ricordare, ha aggiunto, che il piano sanitario è stato approvato con legge dello Stato e prevede chiaramente la riorganizzazione della rete di neurocriurgia e non mi sembra di aver letto in quella occasione considerazioni da parte del ministro Giulia Grillo, la quale sedeva in Parlamento. A dire il vero però, Frattura, tuttora risulta essere il commissario ad Accheta per la sanità e di certo non può lavarsi le mani su questa drammatica vicenda immediata la replica del Movimento 5 Stelle. È stato proprio Frattura con il Partito Democratico a far approvare con legge dello Stato il piano sanitario fallimentare che non garantisce i livelli essenziali di assistenza, ha denunciato Andrea Greco. Quanto alle accuse rivolte al ministro Grillo, ha concluso, vorrei ricordare a Frattura che lei votò contro quella legge. L'Unione sindacale di base, dal canto suo, ha inviato una nota durissima. Ancora una volta la politica molisana ha fatto flop e a pagare con la morte è stato un giovane padre di famiglia, ha dichiarato il segretario Sergio Calce. Fa rabbia che continuano a verificarsi morti assurde dovute a errori e inefficienze, ha concluso Calce. Il presidente della regione, Donato Toma, ha ricordato di non essere stato ancora nominato commissario ad Accheta ed ha chiesto la revisione necessaria del decreto Balduzzi. Sicuramente una modifica da realizzare con urgenza, aggiungiamo noi, ma Donato Toma da presidente ai pieni poteri per realizzare con tempestività un servizio di eri soccorso e per potenziare la rete dell'emergenza urgenza. Insomma, la morte dell'uomo avvenuta ieri sera a causa di inefficienze e disorganizzazione forse ha risvegliato le coscienze di chi gestisce il potere. Ma c'è da chiedersi, Costoro, dove erano mentre si smantellava la sanità molisana? Intanto la procura di Larino ha aperto un fascicolo sulla morte del 47enne. Omicidio, interruzione di pubblico servizio e omissioni di atti di ufficio, i reati ipotizzati al momento contro i gnoti dal PM Fabio Papa, titolare dell'inchiesta. C'è attesa, infine, anche per la decisione degli ispettori ministeriali. L'augurio è che non sia qualche malcapitato operatore a pagare per un sistema sanitario inefficiente e disorganizzato per volontà di chi lo ha programmato maldestramente con il solo obiettivo di ridurre i costi.